Ciao a tutti, io sono Francesco Colombo e oggi vi porto alla prima tappa del circuito nazionale Gravitalia Oggi è venerdì, giorno di prove libere La pista non è ancora fettucciata del tutto, però più o meno si sa già dove si scende la domenica E niente, vi porto con me nella prima discesa Ok, primo giro del weekend che ha nel Poggio 2019 Vediamo un po' com'è questa pista Grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Finora è tutto uguale all'anno scorso, credo che si passi comunque di qua in gara Il percorso è abbastanza semplice Non c'è nulla di così complicato A parte queste curve un po' più strette, ma niente di che Adesso entriamo nell'ultima parte di Bosco della gara Grazie a tutti 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 Oggi è sabato, in teoria ci sarebbero dovute essere le qualifiche Però in realtà non lo sappiamo ancora, visto il tempo com'è La pioggia ieri è stata veramente forte Oggi c'è anche un po' di vento Quindi non sappiamo se la seggiovia potrà andare E andiamo a scoprirla adesso Ieri ho provato davvero poco Ho fatto soltanto quattro riscesi, di cui solo una sul bagnato Perché poi la pioggia è diventata fortissima E quando sono arrivato lì per girare era chiusa la seggiovia Quindi se facciamo la gara domenica Bisognerà fare in fretta e imparare bene il percorso Le linee sul bagnato E sarà dura Ok, oggi è domenica Ieri non abbiamo girato per niente Il tempo era veramente un disastro E oggi dovremmo poter girare sulla pista Fare un po' di prove e poi subito la gara senza qualifica E andiamo a vedere come sarà E andiamo a vedere come sarà E andiamo a vedere come sarà Grazie a tutti Oh 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 Oh